Una grande soddisfazione nel Seracusano a Noto, domenica scorsa, per la vostra squadra. Grandi risultati portati a casa. Sì, buongiorno a tutti. È stata una bellissima domenica, il 12 luglio, lì a Saccollino, a Tirabolo Saccollino, a Noto, dove io ho vinto nella categoria eccellenza con 95 su 100. L'anno prossimo avremo l'onore di avere la quarta eccellenza di comeback al Tavve Carlino, che è Giuseppe Scaglione. Faccio ancora i miei complimenti pubblicamente in televisione a Giuseppe, perché passare nella massima categoria non è facile. Tutti arrivano a un passo, c'è chi spara per anni e non è mai potuto arrivare in eccellenza. Quindi queste sono soddisfazioni, complimenti a Giuseppe. E poi è stato un gran premio insolito, perché con questo Covid-19 dobbiamo stare tutti attenti, mascherine, a sparare le distanze. Infatti il Tirabolo è uno sport individualista, dove tu già sei a più di un metro dall'alto concorrente, quindi non ci sono pericoli, si spara all'aria aperta. Però è stata sempre una domenica strana. I complimenti li faccio pure al ragazzo giovanissimo, 19 anni, Gabriele Morabito, che mi ha battuto, ha fatto 96 su 100. Infatti lui è calabrese ed è membro della nazionale italiana Juniors, complimenti Gabriele pure a te. E questo sta a dimostrare in questo sport quanto è importante un piattello, perché molti a volte sbagliando un piattello dicono vabbè rompe gli altri, invece no, non funziona così. È un bello sport, ti diverti, è uno sport di aggregazione, però devi stare molto concentrato perché appena sbagli è finita. Naturalmente c'è l'impegno quotidiano, c'è molta determinazione, ci si deve anche allenare da questo punto di vista. E poi c'è lo spirito di squadra, ecco, il gruppo che si sta creando, che sta crescendo negli anni, che è cresciuto in questi ultimi anni e che annovera al proprio interno dei campioni come lei, suo fratello e tanti altri. Sì, la nostra società quest'anno compie 10 anni, il TAV Carlino Salvatore, che è stato creato e fondato in memoria di mio papà. Diciamo che ora possiamo avere molti campioni fra i nostri tesserati, abbiamo anche il campione d'Europa in carica, che è di Messina, Andrea Bruno, abbiamo quindi campioni di altre discipline, perché il tiravolo si articola anche in altre discipline, in Combach, Fosso Olimbica, Elica. E diciamo che grazie anche a tutti questi ragazzi, questi campioni, portano in alto i colori del TAV Carlino, che io ringrazio anche loro, che rendono possibile, diciamo, la crescita del gruppo. A noi scherzosamente piace dire il brango, perché la nostra mascotta è il lupo, quindi a noi piace dire il brango dei lupi. Dove saranno quindi nelle prossime settimane i lupi? Allora, i lupi nelle prossime settimane, domenica prossima saremo a Enna, dove da quattro prove causa Covid-19 si è fatta solo una prova unica, sarà Enna e il brango scenderà, diciamo, completo. Poi abbiamo un appuntamento nel nostro impianto il 9 agosto, con le massime precauzioni nel caso del Covid-19, che sarà il tripletto, dove si sparerà in, diciamo, i lanci Combach, però con il semi-automatico. Quindi sparerà i tre piattelli, un colpo per piattello. E poi stiamo vedendo, insieme a mio fratello, se dobbiamo organizzare o no il famoso memory al Carlino Salvatore, in memoria di mio papà, che quest'anno sarebbe la quindicesima edizione. Però dobbiamo vedere come va, perché ora il Governo ha detto che forse fino al 31 luglio ci saranno le restrizioni. Il Memorial dovrebbe essere l'ultima domenica di agosto e dobbiamo vedere prima come va il discorso del Governo, lo Stato italiano, cosa decide in merito a questo problema storico, perché noi non vogliamo mettere a repentaglio la vita di nessuno, ma vogliamo solo che sia una giornata di festa dove tutti partecipano come al solito e ci divertiamo tutti. L'intenzione c'è, quindi ci devono essere anche le condizioni per poterlo organizzare, per organizzare al meglio, come nella tradizione, nello stile del TAV Carlino, questo Memorial che è anche la fucina, ecco la cosa più importante dell'anno, perché ricorda appunto chi questo centro di tiro a volo lo ha voluto. Sì, sì, infatti noi, ripeto, stiamo cercando di organizzarlo, perché è diventata la gara più blasonata per la Sicilia, parlando della disciplina comeback, e praticamente dobbiamo essere sicuri prima che lo organizziamo, perché a noi piace fare le cose nel migliore dei modi, non piace fare le cose accomodate, oppure quindi o lo facciamo o non lo facciamo, dobbiamo aspettare, quindi per ora siamo lì, siamo aperti per ora il venerdì notturna, perché fa caldo, sempre con tutte le precauzioni nel caso, ma non sappiamo ancora come va.